Qual è la mia pratica artistica? Una bella domanda, potrei dividerla in parti o descriverne la direzione tutte insieme, quello che faccio è cercare una cosa molto specifica che è il volto di mia madre, ottenere una sua immagine che non ho nemmeno intenzione di mostrare, se vuoi egoista appunto, per evitare di spiegare il motivo principale per cui ho iniziato le mie ricerche ho definito dei passaggi chiave anni fa per riuscire a realizzare il mio obiettivo, quello che ho di lei sono tra altro alcune foto e poche informazioni, è morta quando avevo un anno, ho pensato facendo dei test che i dipinti che non consideriamo relegati alla storia restituiscono ancora delle informazioni e hanno ancora un codice sorgente attivo, chiamiamolo così, allora la cosa che ho fatto all'inizio è stato ottenere delle rotazioni di immagini del passato, l'ottenimento di nuove immagini del codice sorgente, del codice della principale mi ha fatto pensare che potevo andare oltre. Allora il secondo passaggio un paio di anni più tardi c'è stato ed è stato elaborare un modo per restituire un nuovo luogo, un luogo non accessibile ai dipinti presi in esame, successivo ad una rotazione e avvicinarmi a quello che ancora non saprei esattamente come descrivere, forse un modello di astrazione molto successivo, astratto nella forma più distante anche del termine. Iniziare con il tecnologico per finire con lo spirituale, rivedere mia madre, trovare un contatto e fare una cosa obbligata per la mia vita, cioè concedermi una vita, concedermela e accettarla. Ogni fase della ricerca ne ha aperte delle altre o mi ha fatto costruire, mettiamola così, dei suoi affluenti. Forse in tutto questa calma nella quale mi sono rifugiato negli ultimi 4 anni ho accumulato un tale senso di ribellione nel fare le mie cose che la morte non ha più quel significato che le davo prima. Ribellarsi alla morte è tutto quello che facciamo in vita, in tutte le nostre azioni, non avrebbe senso nel senso finito delle cose. Sappiamo che tutto muore ma ci ribelliamo, sappiamo che in definitiva non va preso tutto alla lettera, nella sua manifestazione fisica. Sono una specie di punk spirituale. Senti una responsabilità nel fare arte? Sì, ora. Prima no. Credo che sia il momento per quello che ci siamo detti prima, di aprire il linguaggio che sto trovando, renderlo almeno uno strumento consolatorio anche per altri, almeno consolatorio. Poi si diventa qualcosa che è capace di porre delle domande, di sviluppare un dialogo autonomo che sopravvive da solo con l'osservatore per iniziarlo ad una sua indagine, aprirlo ad una zona di astrazione sua, meglio. Dedicarsi agli altri già umanamente è una bella rogna, poi figurati a pensare di farlo attraverso attraverso l'arte. L'arte contemporanea è fatta di tanti ombelichi compiaciuti che cavalcano in questo momento disperazioni temporanee del popolo, delusioni collettive, non cerca dialogo, cerca delle infatuazioni, delle pulsioni del campo reattivo. A volte penso che sia vomitevole, abusiva, tanto quanto la violenza che viene fatta, che vuole descrivere per portare acqua al suo mulino. È importante essere più forti in ascolto, tenersi in ascolto è una cosa molto importante. Tutta la ricerca serve per costruire un linguaggio, questo codice serve per togliersi dalla merda e togliere dalla merda gli altri. Se c'è veramente un obiettivo di questa cosa consolatoria è quello lì, piano piano, no? Mi nutro di amici in questo periodo, di dialoghi molto sinceri e ho preso questa abitudine insieme ad alcuni amici, incontro uno a lunedì mattina ad esempio, prendiamo un caffè, abbiamo questa abitudine, lui è terapeuta, analizziamo un tema specifico mentre uno dei due fa un ritratto all'altro ad esempio, abbiamo sempre i nostri taccuini con una birra o qualcos'altro, così uno parla, l'altro disegna e fa un ritratto all'altro. E così con tante persone molto diverse, anche con i quali tengo dei dialoghi abbastanza strampalati, molto diversi uno dall'altro. Come una vita d'artista? È una vita egoista e principalmente inutile, che cerca in qualche modo attenzione, autorità, autocompiacendosi di una vita trasformata in frode o in farsa, dipende dai casi. Per me è lavoro, un dialogo, amicizie forti, scrittura, rogne, tribolazioni, scrittura, tribolazione, riscrittura. Dopo che ho finito di scrivere un'idea, passo una fase di progettazione, poi c'è un test, poi un altro test, poi un altro test, un altro test, non sono mai convinto di quello che sto facendo. Il resto solitamente sono un sacco di parole velenose che arrivano per sciocchezze fuori misura, completamente, letteralmente fuori misura. Sono un artista di provincia, la mia vita è provinciale, è una contaminazione anche questa, è una ricchezza, meglio porta a rendersi conto delle proprie risorse. Quando un artista è utile, quando il linguaggio che usa è istantaneamente utile alla società è troppo utile, allora lì te ne accorgi. Di solito succede questo, quando un artista è troppo utile. L'artista deve nascondere il proprio materiale, andare in un'altra nazione per non andare in carcere e rischiare la pelle. Questo tipo di cosa ormai viene scimmiottata in modo prodigioso per ottenere un immediato beneficio di immagine, depotenziando in toto l'intero linguaggio contemporaneo dell'arte. Per carità, sopravvive, eh? Ma si è identificato in uno spettro minore rispetto al suo linguaggio, ai suoi temi, alla sua capacità descrittiva dell'umano. Sembra che oggigiorno se non sei un attivista sei un povero coglione. Io penso un'altra cosa, penso che se un artista ha linguaggio suo, allora può parlare di ogni tipo di argomento. Anche fare attivismo nel caso, anche realizzare un lavoro che possa essere di aiuto alla sua comunità, come parlare, fare, conoscere temi attuali. Ma l'arte identificarla in maniera totale, in questo senso, penso che sia miope. E la riduce a una materia di indagine molto ristretta, fredda, diretta, reattiva. Quindi, com'è la vita, la mia? Forse ad un certo punto, viaggiando e poi fermandomi per guardarla da vicino, mi sono reso conto che non è proprio stata felicissima. In qualche modo ho approfittato della cosa per capire come diventare felice, come essere una persona accogliente, come trovare amici, come non soccombere e di ingregire, come essere in ascolto, come ribellarmi alla morte, più o meno.